Neve e gelo fermano anche l'appuntamento con le urne alla provincia di Isernia. Dovevano tenersi ieri, domenica 8 gennaio, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ente di Via Berta, ma le condizioni meteorologiche, caratterizzate da straordinarie nevicate, hanno spento il Presidente Coia a rinviare le elezioni fissando una nuova data. Sindaci e amministratori della provincia di Isernia si recheranno alle urne giovedì 12 gennaio. Considerato, si legge nel provvedimento, che le condizioni meteo di questi giorni hanno determinato, in particolare per il territorio dell'atto Molise, non poche difficoltà nella viabilità, tali da compromettere la regolare circolazione e quindi la partecipazione alle consultazioni elettorali degli elettori dei 52 comuni della provincia già impegnati, peraltro, a fronteggiare l'emergenza neve e ghiaccio nei loro territori, si è deciso di rinviare le elezioni al prossimo 12 gennaio.